Tornano ad aumentare i contagi da Covid-19 a Torre del Greco. Ieri sono stati certificati 35 casi di positività, di cui 3 ricoverati, 2 ripositivizzati in regime ospedaliero ed i restanti in isolamento domiciliare. Boom di guarigioni, sempre ieri 77. Purtroppo si è registrato anche il decesso di un cittadino di 68 anni. Sono 17 i nuovi positivi ad Ercolano a fronte di 19 nuovi guariti. Al momento quindi i positivi totali sono 354 a fronte di 1727 guariti. A Torre Annunziata sono 19 i nuovi casi di contagio registrati ieri. A contempo si registrano anche 12 guarigioni, 346 cittadini attualmente positivi, 336 posti in isolamento domiciliare e 10 ricoverati. 90 invece i nuovi positivi registrati a Castellammare di Stabbia nel periodo dal 14 al 18 gennaio 2021. 42 di essi presentano sintomi lievi della malattia. Tra i nuovi contagiati ci sono un bimbo di 2 mesi, 9 cittadini tra i 4 e i 16 anni, 6 persone tra gli 81 e gli 86 anni ed un 98enne. I guariti per lo stesso periodo sono 14, tra di essi un 80CN.